ciao sono agnese e questo è il vigneto di assisi è stato mio padre che 15 anni fa ha dato il via a questo nuovo progetto ed è nata così l'azienda agraria saio siamo qui ad assisi a pochi metri dalla basilica di san francesco ed è qui che tutta la famiglia lavora insieme per la produzione di vino e olio extravergine d'oliva qui accanto a me il vigneto del grecchetto è di seguito parte del nostro liveto ci piace condividere la nostra passione per il vino e per un territorio unico come assisi con la sua storia e le sue tradizioni quindi vi aspettiamo presto per un aperitivo in sala o per una bella passeggiata tra i filari o perché no per un bel picnic in vino a presto